Buonasera a tutti, benvenuti. Sono Annalisa Camilli, sono una giornalista, lavoro per il settimanale internazionale, sono molto contenta questo pomeriggio di moderare questo incontro che cercherà di indagare quali sono le radici di una parola che usiamo spesso in questo mondo, nel mondo in cui viviamo, che è disuguaglianza. Lo faremo con due ospiti che sono onorata appunto di moderare, innanzitutto la giornalista e scrittrice turca Ece Temelkuran, Temelkuran è la giornalista più letta della Turchia ma non vive da molti anni nel suo paese, vive a Zagabria dopo che ha dovuto lasciare il suo lavoro, il suo paese perché ha avuto delle posizioni molto critiche rispetto al governo del suo paese. Ora scrive per numerose testate internazionali, tra cui Internazionale, la rivista per cui lavoro io e il suo ultimo libro è La fiducia e la dignità, dieci scelte urgenti per un futuro migliore. Con Ece Temelkuran dialogherà la professoressa Francesca Reduzzi, professoressa di diritto romano della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli Federico II, che ha insegnato anche all'Università di Camerino, ha scritto diversi libri e saggi sulla condizione giuridica degli schiavi e dei sottoposti in Grecia e nella Roma Antica e delle strutture costituzionali romane. Per cominciare io vorrei proprio partire da questa parola, disuguaglianza, che è una parola che dice di una mancanza, cioè in sé contiene l'altro che è l'uguaglianza e quindi ci costringe in qualche modo a pensare chi sono gli uguali, che cosa significa uguaglianza. Allora volevo chiedere alla professoressa Reduzzi innanzitutto di aiutarci a definire proprio chi erano gli uguali nel mondo antico e quindi poi chi erano quelli esclusi da questa uguaglianza, perché evidentemente l'idea di disuguaglianza che abbiamo oggi è invece molto legata a un concetto moderno di uguaglianza. Però qual è il rapporto tra questa idea che abbiamo oggi di disuguaglianza e quella invece dell'origine del diritto appunto? Grazie molto di questa presentazione e di questa domanda. In effetti noi dobbiamo distinguere innanzitutto fra la Grecia e Roma, perché come sappiamo in Grecia, almeno nell'Atene classica, il pieno diritto era soltanto dei cittadini liberi. Gli schiavi, ma anche gli ex schiavi non acquisivano, gli schiavi naturalmente no, ma nemmeno gli ex schiavi potevano acquistare la cittadinanza e quindi rimanevano comunque esclusi dalla vita della polis. A Roma la situazione era molto diversa e io mi concentro su Roma perché è poi anche la realtà che ho studiato di più. A Roma c'era una distinzione rigida fra liberi e schiavi perché appunto i giuristi dagli inizi dell'età imperiale, quindi dal primo secolo dopo Cristo, formulano delle categorie. I liberi appartengono alla categoria, gli schiavi sono un'altra categoria e poi passano a spiegare come si diventa schiavi, ma insomma gli schiavi erano degli oggetti, tant'è vero che i giuristi romani fanno rientrare la categoria degli schiavi nell'eres, che significa appunto cosa, e in particolare le res più preziose, quelle che appartenevano alla disponibilità del pater familias fin dall'età più arcaica. Però c'era una condizione fondamentale che ci aiuta anche a capire meglio la società romana, cioè ogni schiavo era potenzialmente un uomo libero, non si chiamava libero, si chiamava liberto e quindi già la denominazione connotava una diversa situazione giuridica. I liberti non avevano i pieni diritti come gli uomini liberi e cittadini, ma erano, potevano essere cittadini romani e i figli dei liberti, come abbiamo un esempio famoso il poeta Orazio, libertino, padre natus, lo sapranno gli studenti del liceo, aveva qualunque diritto nella città di Roma, quindi la generazione successiva a quella dello schiavo liberato poteva anche accedere alle magistrature e questo sia nell'età repubblicana sia nell'età successiva. Quindi dobbiamo anche per capire le disuguaglianze romane entrare nell'ottica giuridica degli status delle persone nel diritto romano. Grazie. In questo momento, subito dopo la pandemia, le disuguaglianze non solo sono diventate non più innegabili, è come se fosse saltato un velo per cui appunto sono diventate molto manifeste le disuguaglianze per esempio nell'accesso alle cure, nell'accesso ai vaccini, ma per la prima volta, secondo appunto diversi rapporti, tra cui un rapporto recente di Oxfam, sono aumentate in quasi tutti i paesi le disuguaglianze, tutti gli indici che misurano la disuguaglianza mostrano appunto un aumento in tutti i paesi del mondo. Secondo appunto Oxfam, le mille persone più ricche del mondo hanno recuperato in appena nove mesi tutte le perdite che avevano accumulato per l'emergenza del Covid-19, mentre i più poveri, per riprendersi dalle conseguenze economiche della pandemia potrebbero impiegare anche dieci anni. Echette Melcoran parla molto nel suo libro della pandemia, delle conseguenze della pandemia e di come se ne può uscire, ma innanzitutto volevo che ci aiutasse a capire in termini politici che cosa significa quest'aumento della disuguaglianza in tutto il mondo. Grazie Annalisa e grazie Francesca. Ovviamente non è molto cambiato nel primo secolo, perché alcune persone sono ancora obiettivi e altri sono persone. Grazie per venire qui su un settembre, su un solito bello per ascoltare tutte le cose depresive. Allora, innanzitutto grazie ad Annalisa, grazie a Francesca. Devo dire non è cambiato poi così molto dai tempi antichi perché anche oggi continuiamo ad avere delle persone che sono libere, che godono quindi dei diritti e delle libertà, e persone che invece sono schiavi. Innanzitutto vorrei anche ringraziare tutti voi per essere venuti qui di domenica, una giornata così bella, ad ascoltare invece temi così deprimenti anche. Well, all the crises, they crystallize the good and the bad. And this crisis has done so. It crystallized the evil in people and we've seen all the embarrassing scenes of people being left to die and we're still seeing it. And we also saw that we are better than our governments. We try to help the people, not only during the pandemic, but for the refugees as well, despite the fact that solidarity has become a crime. Tutte le crisi, diciamo, cristallizzano il bene ed il male. E questo l'abbiamo visto anche con la pandemia. Ha cristallizzato il male che esiste nelle persone. Abbiamo ancora tutti abbastanza presenti negli occhi. Alcune scene, devo dire, francamente imbarazzanti anche di male che si è manifestato. Però è anche una crisi che ha mostrato che spesso le persone, gli individui sono migliori dei propri governi. Questo non soltanto durante la pandemia, quando ci sono stati anche atti di solidarietà, ma anche nei confronti dei rifugiati. Sembra quasi in realtà che per i governi la solidarietà sia diventata qualcosa, no? Quasi un crimine. Ma i cittadini si sono dimostrati meglio dei loro governi. It is quite funny to me that we are taught to share, to help other people when we are in school, from kindergarten, in our houses, in high school, in university. And then suddenly we are faced with this system where solidarity is an actual crime. I don't know if Italian laws has it, but I know that the French code has it, crime of solidarity, with these words. words. So, we are living in a cicatrophanic life, so to speak. We know that we have to have certain moral values, and these moral values makes us good people. But we also have laws that are supposed to protect us from immorality, whereas they are encouraging us to be immoral, not to everyone, not towards everyone, but towards some people, which is the poor, the refugee, and the underprivileged. So that is why I said maybe not much has changed since the first century. It's quite strange that when we are small, when we are small, we have taught that we have to be able to share, that we have to share, that we have to help others. We have to teach them to school, in school, in school, in university, and then when we become adults, we are in a way we are in front of a system where solidarity is even a criminal. Now, I don't so in detail if there is a legal definition of this, but certainly, in the civil civil criminal law, in French, there is a crime of solidarietà, and it is defined exactly with these words. So, we live a life schizofrenical, in which we know that we have to follow the moral values for being brave people, but instead we live with laws that should protect us from all'essere immorali, but that, instead, they push us to achieve immorality. And this is not towards everyone, but towards the poor, the refugees, the disadvantaged. Ecco, because I have to say that, maybe, compared to the antiquity, it could not be so much changed. Last few words. I think we have to make it clear and we have to acknowledge this fact. This is the second time in modern history we are faced with the question of radical evil, incomprehensible evil. Through the, you know, inequality that you mentioned, through the refugee crisis, through the, you know, gap in between the privileged and underprivileged. We are constantly seeing this incomprehensible, comprehensible evil. The first time it was concentration camps and holocaust, and now we can see the poor is spendable or even, it is cheaper for the, for the big capital, for the system to kill the poor, to make it very, very simple. It is cheaper to kill the poor now, you know, instead of trying to accommodate them on this planet. Therefore, we are going through one of the biggest crisis of human history. And unless we make it clear that we are going through this such a massive crisis, we cannot get out of it, I think. Thank you. Volevo aggiungere un'ultima cosa. Io credo che sia diventato evidente, molto chiaro a tutti, che ci troviamo a vivere per la seconda volta nella storia moderna una condizione di male radicale, di un male incomprensibile, inspiegabile. Lo vediamo nelle disuguaglianze, ma anche nella grande crisi dei rifugiati e nelle norme di binario che esiste tra i privilegiati e i non privilegiati. questo male profondo e inspiegabile lo vediamo costantemente, ce l'abbiamo sempre davanti agli occhi. La prima volta è stato con l'olocausto, con i campi di concentramento, ma oggi appunto siamo in una seconda crisi di male profondo. Una situazione in cui i poveri sono diventati spendibili, sacrificabili, addirittura è diventato meno costoso per il sistema eliminarli, ucciderli i poveri. Costa meno farli fuori piuttosto che cercare di trovare uno spazio e di accogliere i poveri nel nostro pianeta. Però finché non diciamo chiaramente che stiamo vivendo una delle crisi peggiori della storia moderna, finché non lo diciamo ad alta voce, non lo riconosciamo, non potremo nemmeno uscirne. Grazie. E qual è il rapporto, faccio la professoressa Reduzzi la stessa domanda che ho fatto a Eccetemè, il curano, cioè qual è il rapporto tra un differente accesso alla ricchezza o addirittura un'esclusione totale, come nel caso degli schiavi e le forme di governo e la gestione del potere. Come funzionava nell'antichità? È evidente che appunto più i livelli di disuguaglianza aumentano, più anche nella contemporaneità le democrazie risentono e ne beneficiano moltissimo diciamo delle forme più autoritarie di potere. Come funzionava nell'antichità e qual è il ruolo delle leggi, della legge? Quanto diciamo la legge serviva all'epoca per tutelare i pochi e invece poteva servire per tutelare i più vulnerabili? Sì, dunque noi dobbiamo tenere presente che l'esperienza giuridica romana si sviluppa per una serie molto lunga di anni e cambia anche, si evolve nelle varie fasi della storia di Roma. Quindi noi assistiamo sicuramente a un aumento della popolazione di schiavi fra secondo secolo avanti Cristo e secondo dopo Cristo e fino a quell'epoca sicuramente grazie anche alla riflessione dei giuristi la divisione fra liberi e schiavi è assolutamente netta ma dal punto di vista giuridico perché nella realtà dei fatti gli schiavi non avevano tutti diciamo dal punto di vista sociale la stessa condizione perché noi sappiamo che nell'epoca dello sviluppo commerciale gli schiavi potevano svolgere attività anche lontano dai loro proprietari e compiere una serie di attività negoziali delle quali era sempre responsabile il loro padrone però comunque avevano un'ampia libertà di azione, almeno una certa categoria di schiavi quelli più intraprendenti, più capaci. Dal punto di vista giuridico erano sempre schiavi quindi sempre oggetti però è innegabile che quelli che avevano maggiore libertà come pure gli schiavi che lavoravano nell'ambito dell'amministrazione imperiale noi abbiamo nel primo secolo dopo Cristo agli inizi del Principato a partire da Augusto una serie di schiavi che diventano amministratori non solo delle grandi famiglie private ma anche dell'impero e addirittura tesorieri nelle province imperiali il che vuol dire che si riponeva una fiducia in queste persone al di là della loro condizione giuridica allora è ovvio che se il padrone aveva diritto di vita e di morte sullo schiavo non andava a uccidere lo schiavo che faceva il suo amministratore se aveva amministrato bene tanto meno lo schiavo imperiale che amministrava le entrate di una provincia caso mai poteva ammazzare lo schiavo poveraccio che aveva, non so, tenuto male il bestiame per un periodo e quindi aveva fatto morire dei capi di bestiame quindi dobbiamo sempre metterci nell'ottica del rapporto fra padroni e schiavi per capire la diversa condizione poi di fatto nella quale vivevano gli schiavi è innegabile anche che man mano che si va avanti con l'evoluzione della forma di impero romano assolutistico le differenze cambiano, cioè la differenza più sensibile non è più quella fra liberi e schiavi come era stato fino al terzo secolo, potremmo dire, dopo Cristo ma diventa la distinzione fondamentale quella fra più ricchi e più poveri ed è in quel momento nel Tardo Impero che gli onestiores, cioè i più importanti, più nobili diventano una categoria che ha addirittura gode di, per esempio nel caso di pena capitale della esecuzione nel modo più, diciamo, meno doloroso che è la decapitazione mentre quando si guarda agli strati più poveri, i cosiddetti umilioresi, più poveri, più umili lì per esempio le pene di morte possono essere graduate fino all'essere bruciati vivi quindi sono tutti, cioè nell'ambito del diritto criminale noi assistiamo a una vera differenziazione di trattamento fra strati più poveri che comprendono anche gli schiavi e strati più ricchi dove sì ci possono essere anche gli ex schiavi, cioè i liberti ma soprattutto le classi ricche sostanzialmente e questa è una differenza importante che noi non notiamo nell'epoca precedente del diritto romano della storia di Roma e che invece ci balza agli occhi proprio nell'età tardo-imperiale e il ruolo del, che era un po' l'altra domanda, il ruolo del diritto, no? è più a tutela dei proprietari, dei liberi, degli uguali? sicuramente il diritto guarda alla tutela degli interessi dei proprietari di schiavi perché non c'è dubbio che la figura del pater familias come è il perno della famiglia patriarcale più antica continua a essere il punto di riferimento, il soggetto maschio, autonomo, capo della famiglia che svolge attività anche attraverso i suoi schiavi quindi sostanzialmente sono gli interessi dei ricchi, degli uomini proprietari di terra e proprietari di schiavi che sono in primo luogo tutelati però assistiamo anche per influsso non tanto o non solo del cristianesimo ma anche di istanze filosofiche quali quelle dello stoicismo nell'invito da parte del diritto, cioè degli imperatori che fanno la legge a trattare gli schiavi in maniera più umana quindi abbiamo dei provvedimenti che intervengono a per esempio limitare il diritto che ha il padrone di vita e di morte sui schiavi o a invitare a non incrudelire nei confronti dello schiavo in maniera smodata ma quindi commisurare la punizione all'entità dell'errore che ha fatto lo schiavo dall'altro lato pensiamo sempre che esistono schiavi che vanno comunque a compiere attività commerciali per conto dei padroni anche in zone lontanissime proprio qualche giorno fa ho studiato un'iscrizione che abbiamo trovato nel deserto dell'Arabia in quel passaggio che c'era fra il Nilo e il Mar Rosso che conduceva a Silon cioè conduceva in India era la via carovaniera che arrivava dall'India e portava le merci pregiate a Roma in realtà arrivava a Puteoli, l'antica Pozzuoli perché quello era il vero porto di Roma Ostia era un porticciolo piccolino in realtà era Puteoli dove si smistavano tutte le merci pregiate che provenivano dall'Oriente e abbiamo un'iscrizione di uno schiavo che era un agente potremmo dire di una ricca famiglia di Puteoli per la quale svolgeva attività commerciali fino all'India e fino a Silon sappiamo quindi in realtà per noi questa natura dello schiavo che in parte è sottoposto e non ha diritti ma in parte anche invece svolge delle attività anche rilevanti è qualcosa che insomma non sempre riusciamo a capire fino in fondo con la nostra mentalità perché noi guardiamo alla schiavitù moderna però dobbiamo entrare anche nel mondo antico, nella mentalità degli antichi per capire come era orientato lo sfruttamento dello schiavo nel mondo antico e poi lo schiavo poteva sempre essere liberato e quindi poi acquisire la cittadinanza con tutte le conseguenze che questo poteva comportare tutti i governi romani cercarono di limitare sempre il numero di schiavi che veniva liberato perché questo poteva nelle varie epoche disturbare gli equilibri politici però insomma c'era la possibilità di liberare schiavi anche se veniva limitato il numero di schiavi che potevano essere manomessi dal padrone insomma il governo stava ben attento a fare queste limitazioni Sì, è passato un secolo e mezzo da quando la schiavitù è stata abolita negli Stati Uniti nel 1863 appunto lo schiavismo era la base ancora in quel momento appunto del sistema economico mondiale eppure oggi diciamo la schiavitù è vietata il possesso di un altro essere umano è vietato in quasi tutti gli stati del mondo eppure secondo alcune stime le vittime di schiavitù sono aumentate del 40% a livello globale tra il 2012 e il 2016 e ancora tra i 20 e i 45 milioni di persone sono nel mondo in una situazione di assoggettamento appunto e di schiavitù è interessante secondo me che il 71% di queste persone sono donne volevo chiedere appunto a Esha Temelkuran di aiutarci a capire appunto come è possibile che appunto in questo momento sia presente ancora una situazione così scandalosa e poi appunto lei ha scritto un libro che si chiama La fiducia e la dignità e in che senso questi due valori sono fondamentali per contrastare le disuguaglianze addirittura disuguaglianze così radicali come l'assoggettamento di un essere umano a un altro essere umano Probably the number is bigger than that because as Francesca said slavery of course has a relation to poverty but also you know slaves can also be you know living normal lives like she explained a minute ago but the indignity there is that slave has to do her job or his job perfectly well not to get killed so probably that number is far bigger than that because many of the people even though they have big salaries they know that they're going to be cancelled out if they don't do their job properly you know Jeff Bezos when he sent something to the space he thanks everyone on Amazon and he said thank you guys you paid for it to the workers of Amazon who were on strike for not getting paid properly so we are living in a world with where the last hopefully the last crisis of capitalism is happening and as your darling Gramsci once said the new has not been born yet so many morbid symptoms are occurring probabilmente il numero che hai citato è persino più alto perché come abbiamo anche sentito da Francesca ci sono anche nell'età moderna degli schiavi che in realtà vivono delle vite normali o quantomeno che sembrano normali ma che sono però in una situazione di schiavitù quindi io credo che questo numero sia molto più alto e per queste persone la dignità scompare nel momento in cui devono svolgere il proprio ruolo perfettamente perché se così non fanno rischiano in questo caso la morte ma nel mondo moderno ci possono essere persone che hanno anche un salario molto alto che però se non fanno bene il proprio lavoro rischiano di essere cancellate se non uccise però cancellate eliminate se non fanno bene il proprio lavoro sto pensando mi viene in mente Jeff Bezos quando ha mandato la micella sullo nello spazio e ha ringraziato i lavoratori di Amazon dicendo grazie ragazzi questo l'avete pagato voi e l'ha detto nel momento in cui i lavoratori di Amazon stavano scioperando proprio per via delle condizioni perché non venivano pagati abbastanza viviamo in un mondo dove io mi auguro stiamo vedendo la crisi del capitalismo e come il vostro caro Gramsci ha detto il nuovo non l'abbiamo ancora visto e quindi credo che ci siano ancora molti segnali da vedere che ci indicheranno la crisi profonda del capitalismo You know, it has to be clear to everyone by now that the fundamental contract of capitalism has cancelled out the fundamental contract for human rights period We all know this It's just that we cannot really do something yet against this fact But I do think that people, not because they're poor, not the poverty is so massive, but also because the dignity has been damaged to an irreparable degree. They're going to riot in several places in the world. They are doing it already, and this is going to be more and more in coming years. I don't know if it's going to be a nice thing, but there will be a lot of riots, I guess. And these riots and these protests, these demonstrations, will have the banner on them, human dignity. This is what I see when I look at the world now since Seattle, since Tahrir, since Gezi, in Black Lives Matter, in Hong Kong, everywhere. They are not really asking for equality, which is interesting. They are asking for dignity. I think this is going to be the flag of the progressive movements in 21st century. I think that it is clear to everyone that the contract of capitalism has canceled, has calpestated the contract of human rights. This we all know, we all know, we all know, but we still don't do anything to do to contrast it. But I think that people, and not only because they are poor, but also because their dignity has been done at a level of irreparable level. So, just for this, I think that always more people will be in the world. In part, we have already seen this, in part, this is already happening, but I think that it will be a phenomenon that will intensify further in the future. I don't know if it will be a process, I don't know se sarà bello, ma io sono certa che vedremo costanti sollevamenti di massa, proteste, dimostrazioni, e questo proprio spinti dal desiderio e dalla richiesta di dignità. Lo vediamo già da tempo, da Seattle a Tahir a Gezi in Turchia, Hong Kong, e la cosa interessante è che queste persone, questi movimenti non chiedono tanto l'uguaglianza, ma chiedono la dignità. E credo che la dignità sarà la bandiera dietro la quale si muoveranno questi movimenti progressisti del XXI secolo. Mi colpisce molto appunto questo dato, per cui anche nel mondo contemporaneo il 70% degli schiavi moderni sono donne, no? Ovviamente molte sono schiavi sessuali, penso alle vittime della tratta che vivono in Europa, nei nostri paesi, molte sono straniere, quindi il doppio stigma di essere donne e straniere. E mi chiedo se quale fosse la condizione delle donne e degli stranieri nell'antichità, e se anche lì non c'è una delle radici, diciamo così, di questa disuguaglianza, cioè se anche nell'antichità essere donna e essere straniere non fosse molto simile a essere schiava, anche se avere una condizione simile a quella degli schiavi, anche se si era liberi. Sì, dunque nel mondo antico, in particolare nel mondo romano, la condizione della donna era legata alla concezione della famiglia e nella famiglia c'era il paterfamilias che aveva sotto di sé le mogli, cioè la moglie, la propria moglie, i figli e le mogli dei figli. E finché i figli non si emancipavano, cioè non uscivano dalla famiglia paterna, il paterfamilias conservava quella che rimane col nome di patria potestas e che è stata abolita nell'ordinamento italiano soltanto nel 1975 con l'introduzione della potestà genitoriale. Però tenete presente che appunto noi abbiamo parlato di patria e potestà fino a relativamente pochissimi anni fa e quindi proprio per la posizione dell'uomo nella famiglia romana, dell'uomo diciamo autonomo che aveva sotto di sé tutti i suoi discendenti, moglie e mogli dei figli, la condizione quindi della donna anche schiava era collegata alla posizione di preeminenza dell'uomo. In più la donna schiava aveva certamente un altro obbligo, cioè quello eventualmente di soddisfare il proprietario. Non era raro però che se nascevano dei figli che naturalmente in caso di unione illegittima seguivano la condizione della madre e quindi erano schiavi il padre naturale potesse avere un occhio di riguardo e magari in un momento futuro manometterli quindi liberarli dalla schiavitù per il fatto che comunque aveva un legame anche se non era un legame legittimo. E in più le schiave sappiamo bene che erano utilizzate anche nel mondo romano per la prostituzione e abbiamo notizia però anche della possibilità che aveva il padrone nel caso di vendita di una schiava di introdurre la clausola che non fosse prostituita. Allora uno potrebbe dire ma il dominus il padrone romano aveva tutti i poteri come poteva essere che c'era una limitazione al suo potere di proprietario esisteva, fu introdotta nell'età del principato e c'era una sanzione collegata all'infrazione di questo obbligo per cui la schiava che fosse stata prostituita contro la volontà del venditore poteva essere liberata e diventare liberta non di quello che l'aveva prostituita ma del precedente proprietario quindi qualche minimo cenno di tutela della schiava dalla prostituzione appare diciamo in trasparenza da questi provvedimenti, da queste clausole che vediamo nell'ambito delle vendite ma certamente la condizione della donna schiava insomma era probabilmente peggiore di quella dell'uomo schiavo anche se non era escluso che la schiava pure potesse essere liberata e sappiamo che nell'ambito delle istanze dell'età del principato si fece strada l'idea di non separare le famiglie servili che si erano costituite quindi eventualmente di o vendere marito, moglie e figli schiavi insieme marito fra virgolette perché ovviamente non legittimo ma insomma le famiglie che si erano costituite in modo naturale non separarle e poi anche manomettere insieme schiavo maschio, schiava sua compagna e eventuali figli che avessero avuto quindi anche da questo punto di vista in maniera un po' indiretta dalle testimonianze anche epigrafiche noi sappiamo che c'era un minimo di tutela delle famiglie servili e quindi direttamente anche delle donne però in generale dobbiamo dire che con tutte le limitazioni che colpivano le donne anche le donne schiave diciamo subivano le stesse tipologie di limitazioni E.C. Temel Curran ha scritto un altro libro che ha avuto un grande successo in Italia che è come sfasciare il proprio paese in sette mosse in cui parlava proprio dell'esperienza del suo paese e di come però appunto nel contesto internazionale io mi chiedo appunto dopo la pandemia e con l'aumento delle disuguaglianze un po' in tutto il mondo come se lo dovesse scrivere oggi questo libro, qual è lo stato di salute mi sembra che la copertina dell'Economist di qualche settimana fa mostrava come vincitori i leader più autoritari che hanno gestito la crisi pandemica nella maniera più autoritaria come la pensa, qual è stato l'effetto appunto sul potere soprattutto sulle forme di potere più autoritario della pandemia e di questo aumento quindi delle disuguaglianze noi in Italia all'inizio della pandemia dicevamo ne usciremo migliori proprio perché c'era questo senso di solidarietà sembrava che in qualche modo alcune spinte più populiste potessero essere frenate dalla necessità in qualche modo di contrastare una crisi che coinvolgeva tutti quanti proprio in quello che abbiamo di più caro, la vita, la salute dei propri cari e però a distanza di due anni non siamo così sicuri diciamo che le cose siano andate così bene e soprattutto sembra che ad approfittare di questa crisi siano soprattutto appunto chi ha una gestione del potere più autoritaria Bersinor? Bersinor? Bersinor Siflì Casi mi rispза vedi che lui venivo come kingdom Frohi stavo attorno. a massive economic crisis right now, people are watching in their computer, minute by minute, Turkish currency deprecating so they are, you know, becoming poorer and poorer by the minute, so it is a devastating situation, however these leaders authoritarian leaders or leaders with fascist inclinations from day one in power they are creating a web of political money and this web of political money spans the entire country so their support coming from this financial web is their security web as well this is what keeps them in power after a while when they lose their actual support Erdogan is going through this experience right now Italy has been doing better because of the technocratic government that you managed to put together during the pandemic so it's better than I thought but I guess you know pandemic crystallized the fact that we do not deserve these governments we do not deserve these leaders so they are going to be the losers I think in coming years but what will replace them is the question certainly I think I think I think I think I think I'm going to be the certainly this is not in Turkey but in Turkey the Turkey at all it is going to be a deep crisis economic there are people who really minute after minute are in the computer they are in the computer and they see the lira turca that perd and that is going to be but really minute after minute so it is going to be it is going to be the poverty and the effect economic for Turkey is going to be it is going to be the devastation certainly what I can say is that these leaders that are more authoritarian or with inclination fascist have created a network economic in their countries a network of the financial support and this network that is spread also a network of their security that is their that these people rest in power even when they perdono il sostegno del popolo, però c'è questo sostegno finanziario che li mantiene nella loro posizione di potere e questo è quello che sta succedendo a Erdogan in Turchia. L'Italia è andata un pochino meglio, forse grazie al governo tecnico che è stato messo in piedi durante la pandemia, è andata forse un po' meglio di quanto io mi sarei aspettata. Credo però che la pandemia abbia anche mostrato in maniera molto chiara che noi non ci meritiamo questi governi, non ci meritiamo questi leader e quindi sul lungo termine penso che in realtà saranno i perdenti. Ora la domanda vera però è chi li sostituirà, cosa li sostituirà? Ho sentito che Berlusconi è tornato in città. Ci ridiamo ma sappiamo benissimo che non fa ridere. Il motivo per cui ho parlato di Berlusconi, questo paio, come anche mio paio, conosce molto bene che qualcosa può succedere, perché le democracie sono diventati teatrici di loro, una volta che la justità sociale è riuscita dalla situazione. Quindi può essere Berlusconi, può essere Merlusconi, può essere Giallusconi, ma non c'è nessuno, ma non c'è nessuno che non c'è nessuno che c'è nessuno che c'è nessuno di popolar supporto per la democrazia. Ciò significa che non c'è nessuno di popolistica o un popolistico o un leader con un fascistico inclinazione. Questo è vero, perché questo è un paio che è un paio che era il primo moderno state, in a way, Roman Empire, and so on. And we are the remnants of a big empire as well, Turkey. All this experience cannot end up with Berlusconi. That is so ridiculous. Equally, Boris Johnson is ridiculous. But the reason that these funny guys are with us is that because democrazia has lost their meaning after they became the legitimization for the inequality. Perchè cito Berlusconi, beh perché l'Italia e la Turchia sono paesi che sanno molto bene che in realtà può succedere veramente di tutto nel momento in cui la democrazia diventa quasi una pantomima di se stessa e questo avviene quando non c'è più la giustizia sociale, quando la democrazia non è in grado di garantire la giustizia sociale. Senza la giustizia sociale non c'è neanche sostegno alla democrazia ed è allora in questo contesto che si possono affermare leader populisti o leader con inclinazioni fasciste che possono prendere possesso a quel punto della democrazia ed è molto triste che questo avvenga in un paese come l'Italia che è la culla delle società moderne, l'impero romano e anche la Turchia insomma che è il resto e ciò che resta di un grande impero. non può finire tutto con Berlusconi, con queste figure ridicole ma ridicolo come anche Boris Johnson. Qual è però il motivo per cui questi personaggi abbastanza ridicoli sono riusciti ad arrivare dove sono? Beh è successo proprio perché la democrazia ha perso il suo significato e la democrazia ha perso il suo significato nel momento in cui è diventata legittimazione della disuguaglianza. C'è stato un momento in cui l'aumento della disuguaglianza nel mondo antico è stato così grande, il divario tra i più ricchi e i più poveri, tra chi aveva potere e chi non lo aveva, tra chi era dentro, chi era libero e chi non lo era. È stato così largo questo divario da mettere a rischio anche il sistema stesso di potere. Che cosa ci insegna se ci insegna qualcosa la storia del mondo antico rispetto a questo divario? Cioè la maggiore disuguaglianza fino a che punto è governabile o qual è la spinta per cambiare un sistema che è profondamente ingiusto? Dunque nel mondo romano noi sappiamo bene che le uniche rivolte di schiavi che si sono avute si sono svolte nell'età repubblicana, in particolare nel momento in cui si dice il governo di Roma ebbe la maggior spinta democratica perché l'età repubblicana comunque vedeva magistrature annuali elette, quindi che duravano in carica un solo anno e un sistema in cui c'erano delle assemblee che votavano le leggi e eleggevano questi magistrati. E proprio in questo periodo si sono avute delle rivolte di schiavi in particolare in Sicilia fra secondo e primo secolo secondo secolo credo, sì mi pare, perché erano proprio gli schiavi che lavoravano nei latifondi, che vivevano in condizioni assolutamente disagiate. Però appunto queste rivolte non portarono poi a grandi risultati perché essendo rimaste circoscritte alla Sicilia vi fu una repressione molto feroce da parte dello Stato romano. La rivolta più famosa però come tutti sanno è quella di Spartaco che era un ex soldato che aveva combattuto nell'esercito romano, poi aveva disertato, era stato catturato dai romani e venduto come gladiatore a capua nella scuola di Lentulo Battiato. Lo sapranno forse i ragazzi perché hanno visto questa serie tv Spartaco Sangue e Sabbia che è stata piuttosto famosa negli anni passati, un po' romanzata ma qualcosa di vero si vedeva. E comunque questa rivolta di Spartaco fu quella che diede maggiori preoccupazioni ai romani perché per più di un anno gli eserciti messi insieme da Spartaco tennero in scacco l'esercito della Repubblica. Insomma fu una cosa piuttosto rilevante tanto che le fonti non possono fare a meno, le fonti storiche non possono fare a meno di parlarne. Però anche in quel caso non è che Spartaco si facesse promotore dell'abolizione della schiavitù, semplicemente voleva liberare sé e i suoi compagni e andare forse fuori dall'Italia per vivere da libero. Ma non era nel suo programma l'abolizione della schiavitù che era un concetto che i romani non potevano avere perché la schiavitù era connaturata nella vita dei romani quindi non si immaginava una società senza schiavi come aveva invece ventilato Aristotele quando diceva se gli oggetti si muovessero da soli appunto diceva Aristotele nella politica noi potremmo fare a meno degli schiavi ma per i romani la situazione non si poneva minimamente ed è interessante che le rivolte di schiavi ci siano state soprattutto nell'età repubblicana e non durante il Principato proprio forse perché nel Principato intervennero delle limitazioni, delle mitigazioni nel trattamento troppo duro degli schiavi che forse resero la condizione servile un po' meno dura e quindi meno frequente la possibilità di rivolte servili e poi come ho detto prima con l'equiparazione del Tardo Impero degli strati più poveri a quelli servili e poi che l'evoluzione che ci sarà nel colonato c'è una dipendenza anche del libero però dalla terra e dal proprietario della terra e quindi non più utilizzo di grandi masse di schiavi ma utilizzo di coloni ci sarà una trasformazione della società che poi sarà la base di quella feudale. Credo di aver risposto più o meno a quello che mi ha chiesto. Sì è interessante che appunto sembra che la possibilità di cambiare le cose sia strettamente legata dalla consapevolezza appunto, dalle parole della professoressa Reduzzi, della consapevolezza della propria condizione. Esce Temalcoran nel suo libro parla di fiducia, di una forma di fiducia laica, non religiosa, di speranza, problematizza questo concetto, cioè la speranza appunto in un senso secolare, non religioso. In che senso Esce Temalcoran pensa che la fiducia e la speranza siano un valore per il mondo che verrà, per il futuro, per per cambiare appunto anche l'ordine delle cose che è profondamente ingiusto e disuguale. I was... I thought I was going to listen to more Spartacus. I was preparing myself for that. After writing How to Lose a Country, come Paschiare in Paese in Settimose, I went around the world for two times. I was telling to the audiences, fascism is coming for you too. It is not the craziness of Italy, India and Turkey. It's a global phenomenon and you're going to be in this shit as well. Pensavo di sentire qualche storia su Spartaco, ancora molto interessante. Allora, quando ho scritto il mio primo libro, cioè Come sfasciare un paese in otto mosse, ho poi girato il mondo e sono andata in molti paesi a raccontare proprio a tutti. Attenzione che adesso il fascismo arriva anche qua. Attenzione, non è soltanto la follia dell'Italia, dell'India o della Turchia, ma è un fenomeno globale e adesso in questa letteralmente merda vi ci troverete presto anche voi. C'è chi pensa che il fascismo sia un concetto storico. In realtà non è così. È uno strumento politico che può essere usato in qualsiasi epoca e a qualsiasi latitudine. Like I depress you now, today, I depress many audiences throughout 2019, especially in several countries. And then, every time I finish my talk, the question was the same, exactly the same question. So, where is hope? So, where is hope? And it became so annoying to me, because I started thinking, I mean, like, isn't it obvious, organize and act, you know? But people were asking for hope. And by time, it felt to me as if they don't want to do anything. because, what if there is hope? What are you going to do differently tomorrow? Or, what if there is no hope? What are you going to do differently tomorrow? So, suddenly, I started thinking, maybe this question of hope is irrelevant. It doesn't mean anything. It's inconsequential. So, I started thinking about the word faith, because I thought people wanted a reason. They were looking for a reason to act or to act differently. Così come sto deprimendo voi oggi, soprattutto nel 2019, ho depresso molti altri pubblici che sono stati ad ascoltarmi in molti paesi del mondo. Alla fine delle mie presentazioni si concludeva sempre l'evento con la stessa domanda, ma veramente sempre la stessa, e cioè, e dov'è la speranza? al punto che questa cosa ha iniziato anche quasi a darmi un po' fastidio, perché mi sembrava dire, ma insomma, non è ovvio, cioè, agire, organizzare un'azione, fare qualcosa. Mi è sembrato a un certo punto quasi come se le persone in realtà non volessero fare nulla, perché alla fine, se c'è speranza o non c'è speranza, cosa cambia? Cioè, tu comunque non vuoi fare nulla di diverso? Se c'è speranza ti alzi e fai qualcosa, se invece la speranza non c'è non fai nulla di diverso. Per cui ho iniziato a pensare che la speranza di per sé forse fosse irrilevante, non avesse grande significato. Allora ho iniziato invece a riflettere sulla parola fede, fiducia, ma in senso di ragione, una ragione per agire. Forse se c'è una fiducia, una fede, ecco, questa può essere una ragione per fare qualcosa e per agire. Cosa è la differenza tra noi oggi in questo giro, le persone in questo giro, e le persone che probabilmente hanno stato in questo giro in le 70's? I think the main difference is we do not believe in ourselves anymore, we do not believe in humankind anymore. We have seen so many of the worst of our kind. And thanks to social media, we are constantly represented by the worst of our kind, every day, every moment. And we, I think, without even noticing, started to think that humankind is evil, it's rotten, it cannot change anything. And we forgot the fact that this loss of faith in humankind is the moral breeding ground of total loss of faith in humankind. Fascism's description of humankind is weak, dirty, inconsequential, unless the individual melts into a mess to perform a higher goal. Se ci pensiamo, qual è la differenza tra noi che siamo qui seduti in questa sala e le persone degli anni 70, sedute magari esattamente nella stessa sala? Ecco, la differenza fondamentale è che noi non crediamo più in noi stessi, abbiamo perso la fiducia nell'umanità. Questo perché abbiamo visto probabilmente il peggio di quello che l'uomo, che l'essere umano può fare. E con i social media il peggio dell'umanità ci viene presentato tutti i giorni, tutti i minuti, lo vediamo costantemente, quasi senza accorgersene, siamo arrivati a pensare che l'essere umano di per sé sia cattivo, sia marcio, che non possa cambiare nulla. E ci siamo dimenticati però che questa perdita di fiducia nell'essere umano, nell'umanità, è invece quasi il brodo primordiale del fascismo, è proprio terreno di cultura del fascismo, perché il fascismo cresce proprio dove c'è una perdita completa di fiducia nell'essere umano. La descrizione dell'umanità nel pensiero fascista è di un'umanità debole, sporca, incapace e l'individuo si deve sciogliere, fondere in una massa per riuscire a raggiungere uno scopo più alto. Sì, abbiamo bisogno di avere una descrizione diversa di un'umanità, ovviamente. Abbiamo bisogno di avere una descrizione diversa di una descrizione diversa di un'umanità di un'umanità neoliberale e fascistica. Ma in order di fare questa descrizione, prima, abbiamo bisogno di avere la fiducia in nostro tipo, perché senza la fiducia in nostro tipo, we cannot operate. We are paralysed. So, I make a moral decision to believe in my kind, and from there on, I can make a better description of my kind. And I describe human as a form of existence that is hardwired to survive by creating beauty. I think this description is strong enough to not be broken when we see the worst of our kind, and it's strong enough to carry the higher expectations for our kind. And this description can create faith in people. It can help us create, it can help us have faith in humankind. And if we have faith, which is a conviction, which doesn't need proofs, I believe, that's it. When we have faith in our kind, then we will have a reason to act. And we will have a reason to sacrifice, to work for, and to struggle against something. That is why faith is important. Because these are two harsh times for fragile words like hope. And there are times that there is no hope. But we still try to create beauty in order to survive. Because this is who we are. This is how we are built. This is how we are hardwired. Or I believe to, I choose to believe so. That's even better. Dobbiamo quindi avere una descrizione diversa dell'essere umano, dell'uomo, una descrizione che sia molto diversa dalla descrizione che è stata data dal pensiero neoliberalista e dal pensiero fascista. La prima cosa da fare però è avere fede nella nostra specie, fede nelle nell'essere umano, perché soltanto così poi siamo in grado di agire, altrimenti rimaniamo impotenti. E quindi io, diciamo, ho fatto la scelta, ho preso la decisione morale di credere nella mia specie, nell'umanità, per arrivare così a dare una descrizione dell'uomo che sia diversa. E per me la descrizione dell'essere umano è questa, è una forma di esistenza che è progettata per sopravvivere creando bellezza. Io credo che questa sia una definizione abbastanza forte da poter non essere spezzata da quello che vediamo di brutto, il peggio che possiamo vedere dell'essere umano ed è anche abbastanza forte per poter avere delle alte aspettative per noi. Questa fiducia nell'essere umano ci può aiutare ad avere delle aspettative più alte ed è una fede, è veramente una fiducia, è una convinzione, non ha bisogno di prove tangibili, è un credo. E questa fiducia può diventare una ragione per agire, può diventare una ragione per sacrificarci, per lavorare duramente, per combattere contro qualcosa. Ecco perché secondo me questa parola fede, fiducia è una parola importante. Viviamo tempi duri in cui non vanno più bene le parole fragili come speranza, dove però continua a esistere la creazione di bellezza. Noi continuiamo comunque anche in tempi duri a cercare di creare una bellezza perché siamo fatti così, siamo stati, siamo creati, siamo progettati per essere così e io in questo ci credo, scelgo di credere che continuiamo a creare bellezza. Grazie Cetemel Curran. Abbiamo finito il tempo a nostra disposizione però c'è ancora qualche minuto per le domande quindi lascerei se possibile la possibilità appunto di, dovrebbe esserci un microfono credo in sala, se qualcuno ha delle domande da rivolgere, Cetemel Curran e Francesca Reduzzi questo è il momento. C'è qualcuno che vuole intervenire? No, direi nessuna domanda, allora io ringrazio la professoressa Francesca Reduzzi e Cetemel Curran e Simona per l'ottimo lavoro di traduzione, non era facile e il circolo dei lettori per aver organizzato questo festival e aver fatto incontrare questi sguardi così diversi. Grazie.